La comunicazione è tutto, anche se non si deve leggere la comunicazione come un dettaglio. La comunicazione è davvero la raccolta fondi, la campagna di raccolta fondi è fatta da una buona comunicazione. Quindi l'errore in comunicazione non esiste in una campagna di raccolta fondi perché bisogna comunque avere a mente che ci sono degli elementi, tanti elementi, che bisogna comunicare nel momento giusto ai donatori che hanno contribuito a una campagna. Il caso Ferragni, dobbiamo dire, il Pandorogate, che per fortuna ci aspettavamo dei numeri più forti, invece il calo sembrerebbe, almeno adesso, anche qui va studiato sul lungo periodo, comunque il calo è limitato. Solo il 5% delle organizzazioni del nostro campione ha registrato un calo dopo il caso, quindi a cavallo tra il 2023 e il 2024. Questo vuol dire che il terzo settore comunque oggi è un settore professionalizzato che sa rispondere adeguatamente anche nei momenti di crisi, appunto, con degli strumenti che mette in campo che vanno a migliorare la trasparenza e il dialogo con il donatore.